Siamo con il mister Medori, cosa è successo mister? Proprio quando la partita sembrava finita? Il calcio, loro hanno avuto culo e noi abbiamo avuto sfida, niente, abbiamo ammazzato di no, ma strameritavamo di vincere, 2-0, poi c'è stato 2-1 ci può stare, 2-2 non si può passare, ma ci sta il calcio. Non me ne frega niente, tutto l'anno che ci danno addosso non me ne frega niente, probabilmente non l'ho visto bene, se dice che c'era non c'era, non piangiamo noi, non ce ne frega niente, complimenti alla Sastevese, auguri alla Sastevese, ci abbiamo provato, i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria e oggi sono stato contento di aver allenato questa squadra, solo questa. Grazie e complimenti Grazie a lei, buonasera